Un'altra parte che dice Natia, come mai non riesci a spiritualizzare le persone, a indirizzarle verso la vera spiritualità? E' mica facile, non ci sono riusciti i miei colleghi di lavoro, i tuoi colleghi di lavoro e chi sono questi tuoi colleghi di lavoro? Come chi sono? Gesù Cristo, Buddha, Socrate, Tortone, cose diverse. Grazie! 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 Grazie!